wow ma tu sei babbo natale esattamente piccolo mio ed ho un regalo proprio per te ecco tieni la torre di guardia leggilo tutto figliolo e capirai perché geova è la risposta ad ogni male nel mondo tu non sei il vero babbo natale giusto non esiste nessun babbo natale esiste solo geova